Ciao, oggi ho provato a fare questo percorso tra dei libri che sono stati significativi, che in realtà lo sono ancora adesso, nella mia formazione di lettrice. Ovviamente era difficile fare una selezione e quindi voglio anche rivendicare il carattere arbitrario della selezione, in cui però secondo me ci sono dei nessi che mi verrebbe da riassumere così. Sono dei libri che hanno molto a che fare con il tempo stesso, con l'assertività e con la capacità di mettersi in crisi, sia degli autori e delle autrici che le hanno scritte, sia proprio della postura dei libri stessi che ho portato. Ho cominciato dal Caligola di Camus, passando per il teatro di Sabbat di Philip Roth, poi invece un carteggio tra Paul Celan e Ingeborg Backman, che si chiama Troviamo le parole, e poi un piccolo saggio sul perché tenere un taccuino di John Didion, che è raccolto in questo libro che si chiama verso Betlemme, che è appunto una raccolta di saggi di Didion, e per finire con invece un saggio di Ursula Le Guin, che nella raccolta I sogni si spiegano da sole, e il saggio si chiama Una teoria letteraria come sacchetto della spesa. Grazie a tutti.